Io dico francamente, ho sempre pensato che il fascismo che ho vissuto integralmente nel secolo scorso, avesse tentato di distruggere la sinistra senza riuscirci, perché la sinistra è pure in forma diversa e poi rinata. Invece quello che veramente il fascismo era riuscito a cancellare era una destra, una destra, come dire, adesso sto dicendo una parola più generica, liberale, moderata, cioè una destra la quale accettasse di essere destra accanto alla sinistra, comprende non al posto della sinistra, ma accanto alla sinistra. Questa destra fu distrutta dal fascismo e se potesse rinascere io personalmente credo che sarebbe una grande opportunità per tutta l'umanità.